L'uomo non si ponga ad indagare con animo curioso intorno al sacramento, ma si faccia umile imitatore di Cristo e sottometta i suoi sensi alla santa fede. Se non vuoi essere sommerso nell'abisso del dubbio, devi guardarti dall'indagare con inutile curiosità intorno a questo altissimo sacramento. Colui che pretende di conoscere la maestà di Dio sarà schiacciato dalla grandezza di Lui. Dio può fare cose più grandi di quanto l'uomo possa capire. All'uomo è consentita soltanto una pia ed umile ricerca della verità, sempre pronta ad essere illuminata e desiderosa di muoversi entro i salutari insegnamenti dei padri. Beata la semplicità che tralascia le ardue strade delle disquisizioni e prosegue nel sentiero piano e sicuro dei comandamenti di Dio. Sono molti quelli che, volendo indagare cose troppo sublimi, perdettere la fede. Da te si esigono fede e schiettezza di vita, non altezza di intelletto e capacità di penetrare nei misteri di Dio. Tu che non riesci a conoscere e a comprendere ciò che sta più in basso di te, come potresti capire ciò che sta sopra di te? Sottomettiti a Dio, sottometti i tuoi sensi alla fede e ti sarà dato lume di conoscenza quale e quanto potrà esserti utile e necessario. Taluni subiscono forti tentazioni circa la fede e il sacramento, se nonché non a loro se ne deve fare carico, bensì al nemico. Non soffermarti su queste cose, non voler discutere con i tuoi stessi pensieri né rispondere ai dubbi insinuati dal diavolo. Credi invece alle parole di Dio, affidati ai santi e ai profeti e fuggirà da te l'infame nemico. Che il servo di Dio sopporti tali cose talora è utile assai. Il diavolo non sottopone alla tentazione quelli che non hanno fede e i peccatori, che ha già sicuramente in sua mano. Invece egli tenta e tormenta, in vario modo, le persone credenti e devote. Procedi dunque con schietta e ferma fede. Accostati al sacramento con umile venerazione. Rimetti tranquillamente a Dio che tutto può quanto non riesci a comprendere. Il Dio non ti inganna. Mentre si inganna colui che confida troppo in se stesso. Dio cammina accanto ai semplici, si rivela agli umili, dal lume d'intelletto ai piccoli, apre la mente ai puri di cuore e ritira la grazia ai curiosi e ai superbi. La ragione umana è debole e può sbagliare, mentre la fede vera non può ingannarsi. Ogni ragionamento, ogni nostra ricerca deve andare dietro alla fede. non precederla né indebolirla. Ecco, predominano allora la fede e l'amore misteriosamente operanti in questo santissimo ed eccellentissimo sacramento. Il Dio eterno, immenso ed onnipotente, fa cose grandi e imprescrutabili in cielo e in terra e a noi non è dato investigare le meravigliose sue opere. Che se le opere di Dio fossero tali da poter essere facilmente comprese dalla ragione umana, non si potrebbero dire meravigliose e ineffabili.